Sindaco, qual è adesso la situazione a Lampedusa dal punto di vista degli sbarchi? In questo momento, siccome abbiamo il centro d'accoglienza chiuso perché ci sono i lavori in corso, non vengono portate qui le persone soccorse, vengono trasferite direttamente in Sicilia. Il Viminale parla comunque di un incremento in questi ultimi mesi degli arrivi e la destra più in generale da diverso tempo sta attaccando l'operazione Mare Nostrum perché dice appunto che costa moltissimo e che poi fa arrivare molte più persone sulle nostre coste. Lei cosa può dire in proposito visto che tutta l'operazione l'ha seguita nella sua genesi dopo la tragedia di ottobre? Dico semplicemente questo, che Mare Nostrum è nata come soluzione emergenziale dopo il naufragio del 3 ottobre che richiedeva necessariamente un intervento del governo. Questo non vuol dire che sia la soluzione al regime. Io ho sempre manifestato la mia idea, che non mi sembra né impossibile né impraticabile, che è quella del radicale superamento degli sbarchi. Dopo la strage dei 366 migranti, Barroso, quindi l'Europa diciamo, venne lì a Lampedusa e rimase senza fiato davanti alle bare. Poi che cosa è accaduto? Anche lei è stata a Strasburgo, aveva sollecitato un'azione da parte dell'Unione Europea. Non ci lasciate soli, chiese, no? E poi è successo qualcosa? Guardi, già il fatto che siano venuti qua a piangere davanti a quelle bare ha qualcosa di rivoluzionario, anche se per qualcuno sono passerelle. È rivoluzionario venire a Lampedusa, ha iniziato il Papa e devono continuare a farlo tutti. È un passaggio fondamentale questo. Però poi si traduce in politiche concrete? Cioè Mare Nostrum sarebbe l'espressione fattiva di quelle lacrime, secondo lei? O serviva un intervento diverso anche in questi mesi? Guardi, allora, sfatiamo una cosa. Quello che fa oggi Mare Nostrum, con un costo maggiore e con un impiego di forze, di mezzi superiore, Lampedusa, l'Italia, lo ha sempre fatto con la Guardia Costiera. I soccorsi in mare noi li abbiamo sempre fatti. E quindi non è cambiato molto? Pranne nel 2009, quando il Ministro Maroni iniziò la politica abominevole dei rispingimenti in mare. La Corte d'Europa ha denunziato, ha condannato l'Italia per questo, quindi siamo ormai sicuri che quella è una strada impercorribile. Dopodiché fare il soccorso in mare e organizzare l'accoglienza nel nostro paese in maniera strutturata, seria, diffusa sul territorio, è una cosa possibile ed è una cosa che forse si può fare spendendo molti meno soldi. Lei voleva candidarsi per queste prossime elezioni europee, poi le cose nel Partito Democratico sono andate diversamente? No, io veramente non avevo mai pensato di candidarmi, me l'hanno chiesto, pensavo che significasse mettere nel Mediterraneo le questioni che qui si dibattono, l'immigrazione, il diritto d'asilo, Lampedusa come frontiera d'Europa, diventasse la principale battaglia in questa campagna elettorale. Non è stato così e quindi io sul piano personale, da sindaco, continuo a fare quello che ho sempre fatto, non è necessario che io mi candidi. Ma è dispiaciuta? No, no, assolutamente perché penso che personalizzare le battaglie sia sbagliato, chissà quanti meglio di me potranno fare a Bruxelles quello che avrei potuto fare io.